Campitello, Matese, mai così in basso. La stazione scistica molisana ridotta ad un deserto con impianti chiusi e turisti in fuga. Amministratori dell'area, operatori turistici, maestri di sci sono stati sentiti ieri in quarta commissione. Oggi erano tutti in consiglio regionale per la seduta monotematica dedicata ai problemi di Campitello e Capracotta. Tutti insieme hanno avanzato una richiesta. Abbiamo denunciato tutte le problematiche che negli anni Campitello ha vissuto e che oggi diventano una problematica di attualità. Oggi Campitello è chiusa a causa della mancanza dell'innevento artificiale che è stato realizzato circa dieci anni fa, realizzato in maniera errata. Oggi stiamo pagando le conseguenze degli errori del passato. Proprio per questo ho chiesto alla regione Molise un cambio di passo. Può essere soggetto attuatore e di sviluppo di un territorio perché ha dimostrato gli errori che ci sono stati nel passato. E proprio per questo noi vogliamo che il Comune di San Massimo diventi il proprietario degli impianti di risalita affinché possa essere quel livello più vicino al territorio per affrontare le problematiche e soprattutto per vigilare in maniera diversa la differenza di come è stato fatto nel passato. Sotto accusa il governo regionale dall'opposizione attacca Andrea Greco del Movimento 5 Stelle che preannuncia anche la trasmissione di atti alla procura. È una regione immobile che non è stata capace di programmare e che avendo la proprietà degli impianti di fatto mette in difficoltà un intero settore. Ci sono 500 famiglie che quest'anno sono rimaste all'asciutto e questo è uno spettacolo, permettetemi, pietoso a cui noi non possiamo assistere in ermi. Così come è inaccettabile quello che è avvenuto ieri fuori in audizione, i sindaci hanno parlato di calcestruzzo non corrispondente alle norme, di pozzetti non ispezionabili, di impianti dei capidotti sugli impianti che non erano quelli invece previsti nel capitolato Doneri. Queste sono criticità molto forti che sono venute fuori. Quindi da una parte sicuramente io porterò quegli atti in procura perché sono venute fuori delle criticità molto serie. Dall'altra guardiamo la programmazione. La programmazione qual è? La regione ha fallito, diamo un ruolo differente ai comuni di quell'area che hanno il sacrosanto diritto di capire come far fruttare questo immenso patrimonio naturalistico che hanno a disposizione. Nel dibattito in aula tutti d'accordo sulla mozione che impegna la regione a cedere gli impianti ai comuni di riferimento. Noi abbiamo oggi 11 febbraio gli impianti di Campitello che sono chiusi e tutto questo fa male, fa male a quel minimo di economia che potrebbe rafforzare quella che è la nostra natura proprio di regione che si basa anche sulla montagna, cioè quel turismo che dobbiamo iniziare davvero con capacità di programmazione a programmare perché a mio avviso negli anni forse si è data poca importanza. È pur vero che da quest'anno si è iniziato, seppur con un criticato piano sul turismo, però insomma qualche visione c'è stata. Questo è un documento bipartisan? Sì, è un documento bipartisan, anche se io colgo l'occasione, perché ecco bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, agli amici e ai colleghi dei Cinque Stelle che comunque hanno saputo in qualche modo organizzare e spronarci a fare anche una commissione proprio su queste tematiche, commissione che adesso credo che manterremo con un tavolo permanente proprio per vedere quali saranno i lavori anche in futuro, perché tutto questo non deve essere un consiglio monotematico che poi si affine a se stesso.